Il sindaco Gravina Il sostituto procuratore Vittorio Gallucci ha provveduto a nominare il medico legale che eseguirà l'autopsia sulla salma del giovane operaio di 21 anni di cerce maggiore morto sul cantiere a Pietracupa due giorni fa, colpito probabilmente da una carrucola. Crisi idrica in Molise, paesi non soltanto del basso Molise senza acqua come accade ogni anno, un problema rispetto al quale vanno adottate scelte e stabilite soluzioni. Per questo lunedì ci sarà un tavolo di confronto tra i sindaci interessati, il governatore Toma e Molise Acque. I comuni del Molise hanno aderito a partire da metà maggio ai progetti per assumere disoccupati bisognosi nei lavori di utilità diffusa, a oggi però nessuno di loro ha percepito un centesimo perché Regione e Imsa ancora non pagano e si rimpallano le responsabilità. Un gruppo di tifosi proveniente dal napoletano e diretto a Castelli Sangro per assistere agli allenamenti del Napoli si è ritrovato nei pressi di un dirupo a Pettoranello del Molise. I tifosi sono stati salvati dai vigili del fuoco di Isernia. Infine lo sport il calcio in casa del Campobasso è ufficiale, arrivano Corda e il portiere Piga direttamente dal Cagliari. L'affare Sforzini ancora in trattativa, Vasto Girardi tesserato l'esterno sinistro Ferdinando Raucci. Ben ritrovati, nuova edizione del Tg di Teleregione, in apertura c'è sempre l'emergenza coronavirus, in questi giorni vi abbiamo raccontato dell'aumento dei contagi e c'è un'attenzione molto alta da parte delle autorità sanitarie e soprattutto sui casi da rientro. Ora entriamo nel dettaglio dell'ultimo bollettino dell'ASREM che ci aggiorna sulla situazione. Se a livello nazionale si registra un lieve calo dei contagi rispetto alla giornata precedente, più 1444 rispetto a 1462, in Molise il trend resta in aumento. Nelle ultime 24 ore è emerso un nuovo caso, si tratta di un cittadino di Ferrazzano tornato dalla Sardegna, ancora un contagio da rientro, quelli che sono maggiormente sotto osservazione in questi giorni. I positivi attuali salgono quindi a 70, quasi tutti sono asintomatici e isolati a domicilio, in tre sono ancora ricoverati in malattie infettive a Cardarelli. L'ASREM sta procedendo con la solita media di tamponi, in queste ore ne ha processati 302, ma sono in corso ulteriori indagini sui cosiddetti cluster di importazione scoppiati in seguito ai rientri dalle vacanze. Sono attesi infatti i risultati di altri test effettuati sui contatti degli ultimi positivi rilevati, in quarantena sempre 130 persone. E la giunta regionale del Molise, su proposta del governatore Toma, ha deliberato di destinare 400 mila euro a valere sulla disponibilità del Fondo per il Finanziamento di Misure Straordinarie, per il sostegno a lavoratori, imprese e famiglie connessi all'emergenza da Covid-19, al cofinanziamento del programma regionale per la non autosufficienza. Il provvedimento muove dalla considerazione del più gravoso impegno che la situazione epidemiologica ha determinato sulle famiglie, ha fatto sapere Toma, per l'assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza. Ancora una volta il governo regionale, conclude il Presidente, mostra attenzione verso quelle famiglie che più di altre hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni. Sappiamo che c'era stata una battaglia per incrementare le risorse del fondo di non autosufficienza e quindi adesso sono arrivati questi 400 mila euro. Restiamo a parlare dell'emergenza coronavirus perché vista l'impennata di contagi delle ultime settimane e soprattutto causata da persone che sono rientrate da fuori regione o da fuori Italia, il Sindaco di Campobasso invita tutti a segnalarsi, ad attenersi alle disposizioni in vigore. Roberto Gravina, ai nostri microfoni, parla di come sta operando il Comune e anche della prossima riapertura delle scuole. Ascoltiamolo nell'intervista che abbiamo registrato in tarda mattinata. Siamo in collegamento Skype col Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, c'è stata una nuova impennata di contagi nel capoluogo che ha riportato un po' la mente di tutti a quanto accaduto qualche mese fa. Naturalmente la gravità della situazione non è quella di allora. Ora come amministrazione comunale, Sindaco, come vi state organizzando, come vi siete organizzati per il monitoraggio soprattutto dei contagi da rientro? Guardi, la procedura è sempre la stessa nel senso che nulla è cambiato rispetto al passato. Ci sono le comunicazioni che provengono da ASRAM e che sapete bene che gestisce l'aspetto appunto del controllo e della verifica dei tamponi. E' chiaro che in questo momento più che un aspetto organizzativo che ripeto è quello già collaudato, l'invito è alla cittadinanza di essere responsabile e soprattutto a coloro che appunto rientrano di seguire quelle che sono le prescrizioni che sono state stabilite e dall'ordinanza del Presidente della Regione che deriva appunto da un'ordinanza statale e chiaramente tutte le regole comportamentali che dovremmo ormai tutti quanti conoscere molto bene. Quindi forse è sempre bene ricordarlo soprattutto per esempio a chi proviene da zone particolarmente attenzionate adesso dal fenomeno di essere prudenti di quando rientrano in famiglia sempre ovviamente previa comunicazione alle autorità competenti in primo luogo all'ASRAM dove appunto dovranno indicare la loro zona di provenienza. Lei trova che sostanzialmente in città a Campobasso ci sia ancora un rispetto delle norme quindi mascherina a distanziamento o che ci sia stato un rilassamento in generale Sindaco? Ma guardi questo è inutile dirlo, è avvenuto in tutte le città quindi non solo della Regione. È chiaro che dalle ore 18 sapete bene adesso c'è l'obbligo della mascherina nei luoghi dove ci può essere affollamento. Devo dire che qualche problema in più si registra tra i giovani che appunto non sono così attenti e tra l'altro l'invito è soprattutto a loro visto che l'aumento dei contagi in tutta Italia sta vedendo soprattutto appunto i ragazzi maggiormente colpiti, l'invito appunto e soprattutto a loro di essere più rispettosi ma semplicemente perché lo abbiamo detto anche se attualmente si registrano casi soprattutto di asintomatici questo non vuol dire che si possa esporre a un rischio maggiore persone magari che hanno qualche anno in più e che quindi potrebbero subire gli effetti del contagio. Per chiudere Sindaco, in vista della riapertura delle scuole lei è ottimista come vede la situazione del prossimo futuro? Guardi, più che ottimista sono realista. È una sfida per tutti i sindaci, per tutte le città e tutte appunto le regioni. Noi stiamo lavorando appunto per l'intesa con la dirigenza scolastica per dare tutte le condizioni migliori per poter riniziare l'anno scolastico e quindi onestamente so quello che abbiamo fatto, so quello che stiamo facendo e adesso speriamo soprattutto che l'aumento dei contagi sia contenuto e che quindi non metta a repentaglio l'inizio del nuovo anno scolastico in presenza. Ci siamo dal primo settembre, sarà abolito il super ticket, lo ha ricordato proprio in queste ore il Ministro per la Salute Roberto Speranza. Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi, le parole del Ministro, e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre il super ticket è abolito e nessuno lo pagherà più, così su Facebook Speranza. Ed ora la crisi idrica in Molise, criticità soprattutto nel basso Molise e di questo si parlerà lunedì in un tavolo tecnico che si terrà in regione a cui parteciperà il governatore Donato Toma, i sindaci delle aree maggiormente colpite da questa problematica e anche i vertici di Molise Acque. Sentiamo il Presidente Toma al microfono di Pierluigi Boragine. Crisi idrica, emergenza acqua in basso Molise, lei lunedì ha convocato i sindaci, ci sarà anche Molise Acque, troverete la quadra? Allora guardi, la crisi idrica è periodica, ogni anno ad agosto abbiamo lo stesso identico problema. La soluzione che sistemerebbe tutto e che ci darebbe la vera quadra sarebbe quella di rifare le reti idriche dei comuni, quindi le condotte nei comuni che hanno perdite addirittura in alcuni comuni che arrivano oltre il 70%, quelle sono il vero problema. Però per rifare le reti sono necessari investimenti e ci vuole un po' più di tempo. Per quanto riguarda poi il bilanciamento della erogazione dei metri al secondo che bisogna erogare ai vari comuni, Molise Acque sta facendo un riequilibrio, toglie dove è meno necessario e aggiunge dove è più necessario. Nella riunione io mi aspetto che i sindaci ci esprimano fino in fondo le esigenze e Molise Acque e la nostra protezione civile ci diano delle soluzioni. Ed ora la cronaca, il sostituto procuratore di Campobasso Vittorio Gallucci che si sta occupando dell'inchiesta sulla morte sul lavoro del 21enne Cristian Fontana di Cerce Maggiore, incidente che è avvenuto un paio di giorni fa a Pietra Cupa e Dagazzo, lo ricorderete, era impegnato in alcuni lavori per una ditta che opera per conto dell'Enel. Ebbene, il PM Galucci ha nominato il medico legale chiamato a eseguire l'autopsia sulla salma del ragazzo. Continuano intanto gli accertamenti dei carabinieri, degli ispettori dell'ASREM per ricostruire esattamente quello che è accaduto. Sconcerto e incredulità a Cerce Maggiore dove il ragazzo era amato, ben voluto da tutti, disperata la famiglia a cui anche il sindaco Gino Mascia ha manifestato vicinanza e cordoglio in queste ore e tantissimi messaggi di vicinanza sui social per i parenti. Dopo l'autopsia che dovrebbe tenersi entro martedì, il primo cittadino proclamerà e il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Una signora di 80 anni è stata investita lungo via Cesare Battisti a Termoli da un uomo che era alla guida di una Fiat 600. La donna era incosciente al momento dell'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto gli agenti della municipale che hanno ascoltato l'automobilista e dopo le prime cure all'ospedale Santimotio per l'anziana è stato disposto il trasferimento in elisoccorso in una struttura specializzata in Abruzzo. Ha riportato un grave trauma cranico. E oggi un gruppo di tifosi del Napoli proveniente proprio dall'Interland della città partenopea e diretto a Castel di Sangro per assistere agli allenamenti della squadra del cuore ha seguito fedelmente le istruzioni del navigatore e si è ritrovato nei pressi di un dirupo in una zona impervia nelle montagne di Pettoranello del Molise. I carabinieri e i vigili del fuoco di Isernia dopo aver geolocalizzato i tifosi li hanno raggiunti, trainati e finalmente portati fuori dalla strada senza uscita che avevano imboccato. Li hanno quindi riportati fino alla statale e da qui hanno potuto raggiungere Castel di Sangro dove da qualche giorno è in corso il ritiro del Napoli con ingressi contingentati giorno per giorno proprio dei tifosi. I comuni del Molise hanno aderito a partire da metà maggio ai progetti per assumere disoccupati bisognosi e impiegarli nei cosiddetti lavori di utilità diffusa. A oggi però nessuno di loro ha ricevuto un centesimo, questo per il rimpallo di responsabilità tra Regione e IMSS che ancora non versano i contributi. Sentiamo Cristina Niro. Gennaio 2020 si parte con i lavori di pubblica utilità diffusa. Poi arriva il Covid e i comuni interessati vengono avvisati dall'Inf che è meglio non formalizzare i progetti con l'impiego concreto di disoccupati senza alcun sostegno al reddito prima del 4 maggio, la data in cui l'Italia ha cominciato a uscire dal lockdown. Le amministrazioni hanno aspettato e a tempo debito hanno avviato le procedure. Evidente che per le condizioni delle casse comunali e con il fabbisogno di servizi esistente avere a disposizione unità lavorative seppure per un tempo limitato è importante. La Regione Molise deve comunicare all'Inf i dati e l'Istituto di Previdenza paga i pagamenti. A quanto si apprende da alcuni amministratori che hanno segnalato a primo piano Molise la situazione dovrebbero avvenire ogni due mesi. Quindi in alcuni centri i lavori di utilità diffusa hanno avuto inizio nella prima decada di maggio, in altri ad inizio giugno. Fatto sta che ad oggi l'indenità non è stata ancora pagata. Si tratta di persone che, seppure in evidente situazione di difficoltà economica, stanno facendo sacrifici per andare al lavoro nei comuni che li hanno presi per i progetti di utilità diffusa. Abbiamo dato una speranza a queste persone, le abbiamo fatte lavorare in un periodo difficile, sono persone già svantaggiate, non vedono ancora un centesimo, si sfogano alcuni sindaci. È come sparare sulla Croce Rossa. Gli amministratori che si sono informati sulle cause del ritardo e la risposta pare sia stata che i sistemi di comunicazione dei dati fra Regione e IMSS non è sincronizzato. Sembra che anche il neoassessore al lavoro, Michele Marone, sia stato interessato dalla vicenda. Ma finora non si è sbloccato nulla. L'obiettivo della misura fu spiegato alla conferenza stampa di presentazione che si tende nella sala aggiunta di Palazzo Vitale. è assicurare in via temporanea anche un sostegno al reddito alle persone disoccupate che vivono in uno stato di disagio rispetto alla loro partecipazione attiva all'interno di progetti che vanno a beneficio delle comunità locali. I disoccupati hanno fatto la loro parte. Regione IMSS, secondo quanto raccontano le amministrazioni, di fatto no. E se ne rimpallano le responsabilità. Infrastrutture, c'è un milione di euro per interventi sulle strade di collegamento delle aree interne. I lavori sono stati appaltati dalla provincia di Campobasso grazie a un finanziamento regionale. Si tratta di opere attese da anni. Un appalto della provincia di Campobasso per i lavori che porteranno all'apertura del traffico della strada del bivio di Providenti alla stazione di Bonefro Santa Croce di Magliano. L'ente ha affidato i lavori grazie ad un finanziamento di un milione di euro della regione Molise. Un sentito ringraziamento alla struttura dell'ente provinciale che ha lavorato per raggiungere il risultato, ha detto il presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, annunciando che a breve inizierà l'opera per riaprire al traffico un tratto di strada che rappresenta un'opera incompiuta. Erano anni che i cittadini attendevano il completamento di questo collegamento. Il miglioramento della viabilità nelle aree interne del territorio provinciale è un obiettivo della provincia di Campobasso. Il sistema infrastrutturale, dice infatti Roberti, è alla base dell'economia locale e la provincia, anche grazie ai nuovi orientamenti sui ruoli degli enti provinciali, continuerà a lavorare per lo sviluppo e il rilancio delle aree interne dell'intero territorio provinciale. La notte scorsa un'auto in località Ravasecca, e siamo nell'Interland di Isernia, si è scontrata con una famiglia di cinghiali. La conducente è stata visitata sul posto dal personale del 118 ed è stato allertato anche il veterinario dell'ASREM per i cinghiali. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il veicolo ed erano presenti anche due pattuglie della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Ed è stato, cambiamo argomento, quindi è stato chiuso temporaneamente il viadotto Santo Nofrio sulla Trignina in territorio di Pesco Lanciano per un'opera da 2 milioni e mezzo di euro. Si tratta di lavori di manutenzione che ha comunicato l'ANAS, annunciando anche che l'intervento durerà fino al 18 dicembre, che la circolazione sarà deviata allo svincolo di Pesco Lanciano. Si tratta di un intervento programmato tra il chilometro 12 e 530 e il chilometro 13 e 140 proprio nel territorio di Pesco Lanciano, in provincia di Serna. Il traffico sarà deviato sulle rampe di collegamento tra la provinciale 78 Aquilonia e la stessa Trignina con un'opportuna segnaletica che è già in loco. Sulla provinciale 78 è stata già realizzata una rotatoria per permettere di comprimere ulteriormente i tempi di percorrenza del percorso alternativo che sono stimati in sei minuti in più. La circolazione quindi imboccherà le rampe di uscita allo svincolo di Pesco Lanciano, percorrerà la rotatoria sulla 78 e riprenderà quindi la Trignina con le rampe di ingresso. I lavori consistono principalmente nel ripristino delle solette del viadotto, nei ripristini corticali di travi e pile e nella sostituzione delle barriere di sicurezza con rifacimento dei cordoli. Furto di rame sulla tratta ferroviaria in territorio di Guglionesi. La notte scorsa sono stati trafugati sei chilometri e mezzo di cavi e stanno indagando i carabinieri. Se è vero che la linea ferroviaria Campobasso-Termoli, riaperta dopo anni lo scorso 9 agosto, fatica ad entrare al regime e già l'orario ordinario non è molto competitivo per l'intera tratta, è utile per i paesi però dell'Interland, ma è altrettanto vero che occorre anche preservarla dalle scorribande di chi punta a mettere le mani sul loro rosso i preziosi cavi di rame, come purtroppo è avvenuto la notte scorsa, quando sicuramente una banda di malviventi si è presentata in agro di Guglionesi, disarmando ben 32 bobbine di cavi da 200 metri e portando via quasi sei chilometri e mezzo di metallo, che al mercato nero frutterebbe ben oltre 50.000 euro, soldi che ora si dovranno reperire nelle casse degli enti proprietari dell'infrastruttura, costretti anche a riparare i danni provocati dal gruppo di aspiranti ladri di metalli. E sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato rilievi e sopralluoghi. Bene, siamo al meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per domenica 30 agosto. Seppur in indebolimento, l'alta pressione rinnova l'ultima giornata di bel tempo sul Molise, con ampi spazi di cieli sereni, salvo locali velature di passaggio e qualche cumulo in più sulla dorsale. Ecco le temperature, Campobasso 19,32, Isernia 20,31, Termoli 28,35, Venafro 19,34. E come di consueto qualche istante di pausa, restate con noi perché tra poco parliamo di sport. Eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio e del Campobasso. Adesso è ufficiale dal Cagliari, arrivano Corda e il portiere Piga. L'affare con Sforzini sembra fattibile, ma la trattativa è ancora in corso. Asse Cagliari-Campobasso per un paio di interessanti giovanotti, da un rosso-blu all'altro. Verrebbe da dire, il primo settembre saranno ufficializzati due prestiti. Arrivano dal club sardo di Serie A elementi che rimpingono il pacchetto under. Il primo è già stato reso noto da qualche giorno e bisogna mettere solo nero su bianco. Si tratta del portiere Davide Piga, classe 2002, che ha giocato poco lo scorso anno con il Cagliari. Primavera era il vice del titolare. Va a colmare la casella attualmente vuota, visto che tra i pali c'è solo Matteo Raccichini, confermato. Il nome, quello nuovo, è di Andrea Corda, sempre di proprietà cagliaritana, classe 2001 e regista dotato di buona tecnica. Lo scorso anno è stato dato in prestito alla Nuorese in eccellenza e lì, come si suol dire, si è fatto le ossa. I due possono essere annunciati da inizio settembre, quando aprirà il mercato dei professionisti. Restando ai fuori quota, ne serve un altro in mediana per completare il reparto con tre senior, Brenci, Bontà e Candellori e altrettanti under, Tenkorang, Kossu e un terzo calciatore da prendere. Poi andranno ingaggiati altri due attaccanti del 2002. E questo è uno dei nodi più difficili e delicati da sbrogliare. Il Campobasso ha fatto la sua proposta infine all'attaccante Sforzini. La verità è che la richiesta del giocatore classe 84 è un po' alta e le parti sono ancora distanti dall'accordo definitivo. Sforzini sta facendo le sue valutazioni, ha detto chiaramente di essere interessato anche ad altre proposte. L'impressione è che se si facesse un piccolo sforzo da entrambi i lati, arriverebbe subito la stretta di mano. Resta il fatto che al momento la trattativa è più avanti per quel che riguarda l'attacco. Ripeto, si tratta di un profilo che ci piace, ha detto il direttore sportivo De Angelis. Ha esperienza, carisma, caratteristiche giuste. Siamo un po' distanti, ma vediamo. Ed ora il Vasto Girardi è stato tesserato all'esterno sinistro. Ferdinando Raucci, ex Lumezzane e Bisceglie, è dotato di ottima gamba e può ricoprire più ruoli sulla fascia mancina. Si completa il mercato dei senior del Vasto Girardi. La formazione alto-molesana infatti ha definito nelle scorse ore l'innesto di Fernando Raucci. Il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo ed il direttore generale Antonio Crudele hanno completato l'aspetto dell'organico a disposizione del tecnico Prosperi. Elemento di 23 anni, Raucci ha compiuto la trafila giovanile nel vivaio dell'Avellino, per poi arrivare in Serie D alla Torres. A Sassari ha giocato 30 gare e segnato un gol, arrivando a disputare anche la finale play-off. Con il Bisceglie in Lega Pro e poi ad Agrigento con la Cragassa, il collezionato 12 partite nelle ultime due stagioni si è disimpegnato con la Cireale, con cui ha giocato 31 gare ed ha chiuso l'ultimo torneo in terza posizione. Giocatore fisicamente di rilievo e dotato di ottima gamba e velocità, Raucci può ricoprire diversi ruoli nel settore di sinistra del campo. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi invito a rimanere su Teleregione. Arrivederci. Grazie. Grazie.